ciao piacere sono simone masciarelli match analyst collaboratore tecnico di mister ferrazzoli ho avuto il piacere l'anno scorso di lavorare con lui sia a basto che a nola in una stagione calcisticamente non piacevole ma ci siamo trovati molto bene lavorativamente e umanamente per questo quando lui mi ha chiamato mi ha chiesto di seguirlo qui ad avezzano per me è stato naturale rispondere subito di sì ringrazio lui per la fiducia per la voglia di condividere nuovamente questo percorso ringrazio la società sono abruzzesi quindi conosco avezzano come piazza so le potenzialità che ha e speriamo con il lavoro quotidiano di portare quanta più gente allo stadio di toglierci qualche soddisfazione obiettivi non ce ne poniamo subito vediamo se la facendo il percorso come andrà massimo lavoro massima dedizione da parte mia di tutti